Scopriamo tanti trucchi per una cucina più intelligente! Che disastro! Fai cadere l'uovo direttamente nella padella. Molto meglio! Non riesci a sciogliere il nodo? Prova ad arrotolare le estremità. Facile! Le forbici non sono utili solo per tagliare. Usa l'impugnatura per aprire le nocciole. Perfette! Vediamo come conservare al meglio la lattuga. Metti le foglie una sopra l'altra e arrotolale. Tagliarle sarà facilissimo. Metti la lattuga tagliata in una ciotola e immergila in abbondante acqua per lavarla. Asciugala bene fra due fogli di carta assorbente. Conservala in un barattolo con un foglio di carta assorbente all'interno. Si manterrà più a lungo. Lattuga tagliata sempre a disposizione. Usa uno stuzzicadenti per dividere in un attimo il formaggio in quattro parti uguali. Molto pratico! Per conservare una verza già tagliata, ungila con dell'olio d'oliva. L'olio previene l'ossidazione della verdura. Riponila in frigo all'interno di un sacchetto di plastica. Freschezza assicurata! Non gettare la busta delle patate. Può tornare utile per tagliare il burro. Ora è molto più facile da impastare. Prova questo rimedio naturale per sgrassare le padelle. Bastano un po' di sale e una patata. Come nuova! Non hai la vaporiera? Usa questo metodo per una cottura al vapore e fai da te. Per un cibo più sano ma gustoso! ... ... ...